Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è martedì 21 dicembre 2021 e così entriamo nell'inverno, oggi è il primo giorno di questa stagione invernale e è il sostizio d'inverno ovvero il giorno più corto, infatti l'alba questa mattina a Fano e il sole sorge alle 7.38 e tramonta alle 16.32 quindi diamo poche ore di luce, poi piano piano d'ora in avanti i giorni con la luce aumenteranno sempre di più fino ad arrivare all'equinozio di primavera e poi al sostizio d'estate. Vediamo ora qual è il santo del giorno, vediamo chi dobbiamo festeggiare. La chiesa ci propone San Pietro Canisio, San Pietro Canisio fu un seguace di Sant'Ignazio di Loyola che operò in Germania ai tempi di Martín Lutero, quindi siamo nel XVI secolo. Nacque in Olanda da nobile famiglia, studiò alla Università Cattolica di Colonia ma ben presto entrò nella Compagnia di Gesù. Fondò vari collegi e intervenne con grande passione nel Concilio di Trento. Tra i suoi scritti primeggia il catechismo che fu in tutto il mondo dalla chiesa cattolica. Si distinse per sanità e apostolato e fu proclamato dottore della chiesa. Quindi impariamo a conoscere anche San Pietro Canisio. E vediamo ora le condizioni del tempo. Ancora qualche ora di tempo buono sulle Marche, però insomma il tempo si sta guastando. Ampie schiarite e progressivo aumento delle nubi con piogge la sera nelle zone interne. I venti spirano dalle parti meridionali. Le temperature sono in calo. La massima raggiungerà gli 8 gradi, la minima i 2 gradi. Ed ora diamo un'occhiata ai giornali a partire dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. Disoccupato, gigolò, circuiva le signore. Cinque le vittime, 100 mila euro spillati. Ebbè la classica storia dell'uomo piacente che circuisce le vedove oppure le donne che non si sono sposate, che si sentono così corteggiate e alla fine cedono. Ma non era amore, era un bisogno di avere soldi. Avvicinava signore Sole, divorziate o vedove. Faceva valere il suo lato seduttivo e sentimentale per poter instaurare un rapporto e poi entrare in sintonia. Con questa tecnica, un disoccupato di 48 anni di Fano, pensate, ha spillato quasi 100 mila euro alle donne che è riuscito appunto a circuire, facendole invaghire di sé. Un gigolò che avrebbe portato ad un corteggiamento simultaneo di più donne e gli ha appunto consentito di svuotare i loro risparmi. Il 48enne è stato denunciato da tutte e a ognuno era all'oscuro dell'altra, quindi non sapevano delle altre tresche di questo uomo. Ebbene, il giudice gli ha condannato a quella donna che ha chiesto, che ha adotto al rito civile, l'ha condannato a 7 mila euro. Multa in auto, 3 milioni in tre anni. È quanto prevede di incassare l'amministrazione comunale di Fano nel bilancio preventivo. Arriva a sfiorare questa cifra consistente, forse la più consistente che è stata mai ipotizzata. La stima della montare annuale delle sanzioni per infrazioni alle norme del codice della strada per i prossimi tre anni. L'indicazione, che non sembra però avvalorata dall'andamento del 2020, 2020 la circolazione ha subito un grosso rallentamento per le norme restrittive del Covid, ebbene dovrebbe insomma sostenere il bilancio e consentire appunto allo strumento contabile di chiudere i conti. Qui abbiamo una bella fotografia di un personaggio fanese che ha compiuto una missione veramente eccezionale. Ha passato più di un anno in Antartide, in una base italo-francese. Antartide, Fano, Canestrari è tornato. Si tratta di Rodolfo Canestrari. Ho studiato i cambiamenti climatici, ha detto, in una situazione ambientale veramente impossibile, molto molto rigorosa. Il ricercatore è stato 377 giorni nella base Concordia, come station leader della DC17, e fuori c'erano 77 gradi di temperatura, meno 77 gradi, ed una temperatura percepita di meno 102. Bene, una situazione veramente quasi al limite della vivibilità. Lui ovviamente viveva protetto dentro il contenitore della Concordia, compiendo i suoi studi, le sue ricerche, studi di astrofisica, di climatologia, di geologia, sismologia, geomagnetismo e altro ancora. E anche studiando l'evoluzione del buco dell'ozono che in Antartide si restringe e si riallenta, insomma, a seconda delle evoluzioni. E questo crea grossi problemi anche all'aumento del calore sulla Terra. Stranieri diventati cittadini italiani, ora sono 77. Ebbene, domenica si è svolta una cerimonia al Teatro della Fortuna, una cerimonia durante la quale sono stati concessi diploma di cittadinanza a 77 stranieri, molti di quali provengono dall'est europeo e anche dai paesi mediterranei dell'Africa. Un discorso socialmente interessante da parte del sindaco Massimo Seri. Il Partito Democratico e la sfida dell'entroterra. Sulla Valmetauro viene pubblicata oggi una intervista alla neosegretaria provinciale del Partito Democratico Rosetta Fulbi, che è stata eletta nei giorni scorsi a Durbino. Vediamo qualche dichiarazione. La segretaria dice mai con la Lega e con Fratelli d'Italia. Dobbiamo costruire un'area culturale dal basso. La sanità, l'attuale giunta, ha una visione anconacentrica, punitiva. Il DNA del partito, la nostra forza sarà la gente. Questo è quanto ha dichiarato. Ma per quanto riguarda le alleanze, dice la Fulbi mai con la Lega e Fratelli d'Italia. In realtà il Partito Democratico questa dichiarazione l'ha smentita, perché poi vedremo come il Movimento 5 Stelle è entrato in maggioranza. Va bene, non è la Lega e non è Fratelli d'Italia, ma un'apertura verso l'opposizione c'è stata. Patrizzi, 100 metri di opera, ora via al percorso storico. Arte e natura del Cesano a Cerbara, 2200 anni dopo l'appello a Sebastianelli. Vediamo di cosa si tratta quest'articolo che interessa soprattutto terre roverischi. Natale Patrizzi, lo conosciamo, è un pittore particolare, un pittore naif, dobbiamo dire, ma è un pittore di una grande sensibilità artistica. Ebbene Natale Patrizzi sta veramente compiendo delle opere riferite alla battaglia del Metavoro in diversi punti del territorio. E qui vediamo Natale Patrizzi a lavoro in questa fotografia, dove raffigura all'esterno di una casa, nella facciata, sembra una casa colonica, appunto episodi della battaglia del Metauro, con tanto di elefanti, con tanto di legioni romane e a sdrubale contro i consoli Nerone e Flaminio. Mondavio mondiale con due giovani pugili e riconoscimenti in comune. Per il dodicenne Lorenzo Rosa e il diciottenne Niccolò Spinaci, che coltivano questa specialità. Vediamo anche la pagina di Senigallia. Vediamo che dopo l'incidente che si è verificato nei giorni scorsi, ieri è stato chiuso Ponte degli Angeli, auto incolonnate ai portici Ercolani. Ovviamente la chiusura di questa struttura ha determinato difficoltà al traffico, viabilità in sofferenza dopo l'incidente di venerdì, con il pilomat che è incastrato sotto una vettura. Il pilomat è uno di quei dissuasori che si alzano dalla superficie. Il Comune sta effettuando tutte le verifiche del caso e già ieri mattina gli operai erano al lavoro. Sarà necessario intervenire, probabilmente anche sul dissuasore, che è rimasto danneggiato. E poi le difficoltà del pronto soccorso per emergenza Covid. I pazienti ricoverati anche a Senigallia sono vicino al limite. Fino a ieri c'erano sette persone positive. Con l'ottavo caso si dovrà aprire un reparto dedicato. Manca insomma il personale, ci sono anche manifestazioni di protesta e il sindaco in contraguidi dell'area Vasta 2. Nove finora le sanzioni elevate dalla Polizia a locali durante i controlli che sono stati fatti in città. Diamo un'occhiata anche alla pagina di Pesaro, a partire però da quella regionale, e vediamo come nelle Marche si sono riscontrati i primi due casi di Omicron. Via e reparti ricovertiti, oggi il piano nel dettaglio. E qui vediamo l'immagine dell'assessore alla sanità, Filippo Saltamartini. È stata isolata a Torrette, la variante sudafricana. Purtroppo anche le Marche hanno visto apparire questa variante. È stata verificata sui tamponi arrivati soprattutto da Loreto e da Lascolano. L'assessore Saltamartini avanti con le direttive di Roma, insistere con la terza dose. Sono le sue indicazioni. Capodanno, hotel in stand-by, meglio programmare l'estate. Bene, insomma, l'inverno non è propizio per l'accoglienza turistica della nostra provincia. Ieri si è svolta l'Assemblea di APA, che è l'associazione di categoria degli albergatori pesaresi, all'insegna di un presente incerto e di un futuro magari più risoluto. Insomma, si spera molto nell'estate, ma nell'inverno, insomma, come presenze turistiche se ne vedono molto poche. Il Presidente Costantini ha chiesto al Comune garanzie sulla tassa di soggiorno. Al momento comunque le prenotazioni sono praticamente ferme, non squillano i telefoni. Le disdette, al contrario, si aggirano tra un 15% e un 20%, soprattutto per il Capodanno, tanto che alcuni alberghi resteranno chiusi. Comunque si punta molto sul connubio tra costa e dentro terra. Gli albergatori pesaresi hanno coniato un brand, diciamo così. Ciao, ti presento Rossini e non solo. Questo non solo significa tutte le attrattive, tutte le bellezze, tutte le peculiarità del nostro entoterra. Un tour da Pesaro, Urbino, Gradara, per visitare i nostri luoghi con visite animate da personaggi storici del territorio, da Rossini a Raffaello a Dante. Ecco qui la nuova Presidente della Confindustria Provinciale, Alessandra Barronciani. Ieri ha svolto la prima conferenza stampa di inizio di mandato, in cui ha toccato vari temi, linkando le necessità del territorio per una ripresa economica finanziaria stabile. Dobbiamo garantire, ha detto, l'ascolto delle piccole e medie imprese, migliorare il rapporto con le istituzioni, ideare maggiori forme di collaborazione con la scuola e con l'università. Ha detto quello che bisogna fare, ma poi ha elencato anche i nodi, ovvero le criticità, ovvero sono queste l'aumento indiscriminato del costo dell'energia e il rincaro dei prezzi delle materie prime, in più le difficoltà di riperimento appunto delle materie. La ricetta per trasformare il rimbalzo in crescita strutturale sono le riforme dal fisco alla concorrenza, dalle politiche attive agli ammortizzatori sociali, fino alla giustizia, alle pensioni e alla pubblica amministrazione per la semplificazione degli iter burocratici. Insomma, cose che si richiedono da tempo, ma che tardano ad arrivare. Marche Nord, solo 10 gli operatori sanitari, rispondono alle oltre 100 lettere inviate. Si cerca personale, ma il personale non arriva perché non ci sono le condizioni allettanti per aderire appunto alle richieste dell'azienda. Già in servizio, ma si fatica a trovare personale disposto ad assunzioni urgenti per pochi mesi. Insomma, lavorare così assiduamente per stipendi che non sono allettanti solo per tre mesi insomma, non si riesce a convincere i medici appunto ad accettare queste offerte. Poi vediamo anche un articolo che riguarda la situazione politica di Pesaro e soprattutto quella amministrativa, comunale. Il Sì dei 5 Stelle al bilancio blindato. Il Sindaco Ricci ci rafforziamo per il 2022. I pentastellati sono in maggioranza. Non sono l'unica novità perché nasce anche il gruppo dei Verdi Conti Rossi. Marchionni, l'opposizione si è ridotta ma noi non moleremo. Lo ha dichiarato Giulia Marchionni di Prima C'è Pesaro, appunto la lista civica Prima C'è Pesaro. E vediamo anche un attimo un focus sul bilancio. L'Atari non aumenta, almeno per adesso. Lo ha dichiarato appunto l'assessore al bilancio Riccardo Pozzi nel dibattito sulle via libera le liquote delle principali imposte locale ma non mancano le riserve comunque del centro-destra perché l'approvazione del bilancio è un atto politico di grande importanza. Ad ora passiamo al resto del Carlino. Vediamo le notizie riassunte in prima pagina. Dal giudice per vaccinare il figlio uno scontro tra mamma provaxe e papà no vaxe. Intanto il figlio, il 13enne, si contagia e manda tutti in quarantena. Vedremo un attimo gli sviluppi di questa vicenda. Sulla fotonotizia vediamo invece l'impegno della Caritas non solo nel sostenere le famiglie in difficoltà dal punto di vista economico ma lo fa anche dal punto di vista sanitario. Infatti somministra dosi di speranza soprattutto a chi viene in Italia per la prima volta. Zona mare sotto controllo in arrivo 16 telecamere nei punti più votati al divertimento pesarese. Il nuovo consiglio provinciale ora ci sono delle contrattazioni per quanto riguarda il ruolo di vicepresidente si ipotizza una donna mentre il sindaco di Urbino Maurizio Gambini annulla ogni manifestazione per le feste natalizie a causa del covid e anche il pranzo del suo matrimonio. Gambini si sposa. Bimba Contesa la Cassazione deve tornare in Italia è un caso che interessa Urbania e poi vediamo a Marotta rintracciato l'accoltellatore del bar si tratta di un 47enne di origini albanesi residente a Fano mentre per quanto riguarda lo sport abbiamo un articolo sulla VL basket Morretti la squadra ora non deve perdere la fiducia perché dopo i risultati negativi c'è il caso appunto che si lasci un po' andare è stato il migliore e ora sprona i compagni Morretti abbiamo dato tutto battuti da una prodezza genitori separati l'ite per il vaccino del figlio ricorso in tribunale ma intanto lui il bambino si contagia un ragazzo si sottopone al vaccino però il figlio di questa coppia non gliel'ha fatta ed è stato contagiato è l'epilogo che nasce sullo sfondo di una conflittualità di coppia culminata nel divorzio e che vede gli ex coniugi due cinquantenni pesaresi e lui libero professionista dipendente lei divisi anche sulla vaccinazione del figlio purtroppo l'esito del tribunale non è stato tempestivo per evitare che il figlio si contagiasse cioè non ha dato la sentenza il giudice ha cercato di capire com'era la questione ma intanto il ragazzo è stato è stato ritenuto positivo non si era vaccinato perché è un soggetto allergico e si era sottoposto a un test di tolleranza al Pfizer che aveva dato il via libera comunque alla dose c'è anche l'amarezza dell'avvocato Speranzini l'avvocato della mamma la decisione del giudice purtroppo non è arrivata in tempo ha dichiarato vengo dal Pakistan faccio la seconda dose alla Carita il vaccino per gli invisibili e chi sono gli invisibili sono gli immigrati quelli che ancora non sono conosciuti dalle istituzioni e quindi non hanno una nominativa hanno difficoltà ad accedere appunto anche alle vaccinazioni la Caritas sopperisce a questo vuoto fragili senza tetto stranieri e non solo ieri erano 52 in via del teatro a presentarsi per la somministrazione del vaccino alcuni prenotati altri no il coordinatore Andrea Mancini dice grazie a queste giornate la salute torna a essere un diritto davvero fondamentale per tutti anche per gli ultimi guardia medica a singhiozzo saltano i turni e monta la rabbia i giornali ripetono ogni giorno le difficoltà incontrate dal personale sanitario per la carenza di organico da 30 camici bianchi sono rimasti in 4 pensate come si è ridotta l'assistenza chi deve prendere decisioni non lo fa e i medici fuggono Gregorio Bucci dice oh Gregorio Bucci è rappresentante del sindacato dei medici della federazione dei medici di medicina generale ebbene Gregorio Bucci dice chi deve prendere decisioni non lo fa e i medici fuggono ho iniziato alle 20 e sono riuscito ad andare in bagno alle 5 e 15 quindi non un attimo di sosta per quanto riguarda il bisogno di sopperire alle necessità di chi sta male 16 occhi elettronici per la zona mare saranno piazzati in Viale Trieste Piazzale D'Annunzio e Via Nazario Sauro Pozzi e l'assessore al rigore c'è anche questo assessorato a Pesaro dice divertimento più sicuro in tutta quell'area ebbene questi occhi vigili queste telecamere vengono posizionate nei punti più frequentati appunto soprattutto dai giovani dove c'è più divertimento per assicurare più sicurezza a Fano si parla di solidarietà bene un Natale take away e i dormitori chiusi e i senza tetto cercano rifugio in città si parla del centro di accoglienza padre Pio gestito dall'associazione San Paterniano che fa i conti con le norme anti-covid spuntano clochard nella zona anche di Corso Matteotti il comune attiva il pronto intervento sociale sono tutte le iniziative di solidarietà che vengono incentivate soprattutto nel periodo di Natale per far trascorrere le festività anche chi non ha nulla che non ha nemmeno una casa un pranzo di Natale prendi e porta via perché ovviamente non si possono portare tutte le persone in una stanza ci sarebbe troppo assembramento e quindi rischi per quanto riguarda il covid e quindi ci sarà ugualmente assistenza e la possibilità di fornire un pranzo decoroso almeno il giorno di Natale ma l'associazione San Paterniano li fornisce tutti i giorni questi pasti addirittura sono quasi 80 le persone che fanno riferimento a questa istituzione che è diventata una delle ricchezze veramente della nostra città la ciclabile di via negussanti ormai sta per essere terminata termine dei lavori previsto per domani oggi si asfalta e si riape al traffico l'ultimo tratto della strada un tratto la cui ristrutturazione ha suscitato non poche polemiche bulli con i piedi sul cofano un dispetto da mille auto e non cessano di apparire gli episodi di vandali di teppisti che distruggono cose pubbliche e private a Fano vediamo qui una macchina il cui cofano è stato danneggiato appunto da coloro che hanno calpestato con i piedi la lamiera a tanto mille euro a tanto ammontano i danni alla golfe di una quarantenne residente in via Ceccarini in pieno centro storico e qui vediamo la fotografia del sindaco Massimo Seri che concede appunto il diploma di cittadinanza a 43 nuovi cittadini dalla Sardegna a Bellocchi per le mie ragazze una pagina intera dedicata a Casa Serena e in modo particolare a Suor Maria Anselma Scanu che è responsabile della residenza protetta per i disabili gestita dalle piccole missionarie della carità a Marotta è stato identificato l'accoltellatore del bar era fuggito dopo aver colpito un cliente del New Sport Caffè si tratta appunto di un 47enne di origine albanesi residenti a Fano e poi vediamo ancora nella pagina di Urbino l'immagine del sindaco Gambini zona gialla e semaforo rosso per eventi al chiuso sono le misure per tutelare la sicurezza dei cittadini con le norme anti-covid lo stop deciso dall'amministrazione e il sindaco Gambini annulla anche il ricevimento del suo matrimonio e saranno potenziati i controlli e poi vediamo come emerge un diario importante si tratta di un diario inedito di donne Scipioni che relaziona sulla fine del secondo conflitto mondiale dopo quasi 80 anni ritorna alla luce uno scritto di un parroco di montagna del comune di Apecchio era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 mentre per le notizie del giorno occhio alla notizia il TG di Fano TV questa sera alle ore 20-30 condotto da Simona Zonghetti questo è tutto per il momento a risentirci